4.733 sono i positivi in campagna, mentre 403 sono i deceduti e i guariti 2.947. Il riparto per provincia vede Napoli a 2.583, seguito da Salerno 675, Avellino 528, Caserta 452, Benevento 200, altri in fase di verifica ASL 285. Intanto il decreto rilancio ha escluso inspiegabilmente le zone rosse di Veneto e Campania dal fondo di 200 milioni creato ad hoc presso il Ministero dell'Interno e destinato alle zone maggiormente colpite, sollevando le proteste dei governatori Luca Zaia e Vincenzo De Luca, affiancati da Luigi Di Maio, che chiede la correzione in sede di conversione. Incredibile decisione da parte del governo e sconcertante che si sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse Vallo Didiano e Ariano Irpino dal fondo dedicato alle aree colpite gravemente dall'emergenza Covid, lo scrive in una nota il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'esclusione è una follia, anche per Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale. Il governo esclude i comuni dichiarate zone rosse dai benefici economici previsti dal decreto rilancio all'articolo 112 del testo, si escludono in maniera illogica molti comuni, tutti quelli del Vallo Didiano in provincia di Salerno e Ariano Irpino in provincia di Avellino, dal fondo di 200 milioni. Una follia, PD 5 Stelle Regione, autori e complici, aggiunge Caldoro. Si facciano sentire.